Buongiorno a tutti, sono Albert Marzinotto, ho sposato questo progetto di venire a suonare qui con gran piacere e il messaggio che voglio comunicare a tutti è quello di vaccinarci perché così ritorneremo tutti quanti a vivere nel rispetto anche degli altri e speriamo presto di poter tornare a suonare in giro dappertutto e a vivere i concerti come una volta. Lui è Albert Marzinotto, famoso DJ che dopo aver suonato negli stadi per giovanotti e in centinaia di club sparsi per lo stivale ha cambiato set per una buona causa. Il giovane artista di origini veneziane e seguito da migliaia di follower sui social ha suonato alcuni dei suoi brani più famosi durante le vaccinazioni negli spazi dell'hub di Monasteri, il sesto hub pubblico dell'House 2 il più atipico ma anche il più o meno perché si trova a ridosso della piscina e in mezzo al verde di un parco curato e accogliente. È importante che i giovani si vaccinino ma un po' tutta l'età, dobbiamo riprenderci la vita, dobbiamo prenderci le nostre abitudini per quanto mi riguarda è fondamentale ripartire al più presto con le serate, con i concerti, con i DJ set invito tutti i giovani a vaccinarsi per il bene nostro ma per il bene anche delle persone che ci stanno intorno quindi grazie di avermi ospitato, felice di sposare la causa e questo progetto pieno di gioia. Crediamo che iniziative come queste siano importantissime per raggiungere un numero maggiore di giovani giovani che oggi sono chiamati a questo atto, alla vaccinazione per se stessi ma anche per i propri cari e la famiglia ecco che così credo ne usciremo prima e tutti assieme. Ad un mese dall'apertura del nostro hub vaccinale la maggior percentuale di soggetti vaccinati è quella dei giovani, giovanissimi. Abbiamo raggiunto infatti il 36% dei vaccinandi sotto i 22 anni di età, dato molto molto importante perché fa capire come queste persone, questi ragazzi abbiano appreso a pieno la necessità di vaccinarsi contro SARS-CoV-2. Ad aprire la performance di Albert DJ era stata la cantante e musicista trevigiana Alessandra Panizzo. Felicissima di aver dato questo mio piccolo contributo per questa grande iniziativa e sensibilizziamo i giovani a vaccinarsi perché così potremo tutti insieme tornare a rivivere la musica e gli spettacoli. Vacciniamoci!